Ciao amici di YouTube! Intanto mi scuso tantissimo perché so che è già da un bel po' che non mi faccio viva qui sul mio canale. Il motivo è che sono molto impegnata su altri social, principalmente su Facebook, dove tengo allenamenti di yoga facciale in gruppi chiusi. Ma nonostante ciò ovviamente ci tengo anche ai miei follower su YouTube e quindi eccomi qui di nuovo. E intanto spero che state bene e che comunque mi seguiate, spero anche su Facebook, dove sicuramente troverete molti più spunti e molte informazioni. Detto ciò, mi piacerebbe anche magari che scriveste qui sotto i commenti di che argomenti vorreste parlare. Magari così mi date anche spunto sui prossimi video che potrei fare. Qual è la zona critica del vostro viso, ovvero zona critica, una zona che vi piacerebbe approfondire. E chi lo sa, magari il prossimo video lo dedicherò proprio a qualche esercizio per la zona del viso che mi avete richiesto. Ci tengo però come sempre a precisare che il viso va allenato nel suo insieme, quindi va bene che avete qualche zona un po' più critica sul viso che vi interessa un po' di più, ma nel complesso il viso va allenato sempre tutto per intero, perché i muscoli facciali sono collegati tra di loro, quindi sono intrecciati, sono appoggiati uno sull'altro. E cosa vuol dire questo? Che se noi non alleniamo bene anche gli altri muscoli, per farti un esempio, tu magari sarai più interessata o interessato al muscolo circolare dell'occhio, ma il muscolo circolare dell'occhio appoggia anche sui muscoli zigomatici o sui muscoli levator labi, quindi se questi muscoli sotto non sono forti o tendono, perché con la forza di gravità e con il passare degli anni, tendono a tirare giù, a scivolare verso il basso, e quindi cosa succede? Se non lavoriamo anche su questi e se non li alleniamo in modo che stiano su, questi col tempo tireranno giù, cioè scivoleranno giù e si tireranno dietro anche il muscolo dell'occhio. Quindi, anche se tu provvedi ad allenare il muscolo dell'occhio, ma se quelli sotto non sono forti e se non li alleni in modo che stiano su, pian piano tutti questi tireranno giù anche i muscoli che stanno sopra. Stessa cosa, se non alleni i muscoli sopra e li tieni tonici, anche questi premeranno verso il basso e spingeranno tutti gli altri muscoli verso in giù. Insomma, questa forza di gravità purtroppo è inevitabile, ma quello che possiamo fare è assolutamente aiutarci e mantenere il viso in forma, tonico e sodo, e rafforzarlo proprio con gli esercizi di yoga facciale. E qui ci sono tantissimi esercizi proprio per ogni parte del viso. E un'altra cosa che ci tengo a precisare è che non basta fare esercizi, quella a spot, quelli che troviamo magari sul web, oppure quelli anche che vi insegno io, farli giusto in modo separato. La cosa migliore e più corretta, se vogliamo ovviamente ottenere dei risultati, è seguire un percorso, un programma che ci indichi veramente passo dopo passo come sviluppare gradualmente la muscolatura, partendo dai muscoli più grandi, per poi andare ad allenare sempre di più in profondità anche quelli più piccoli. Quindi affidati ad un esperto che magari posso essere io o qualsiasi altra persona che insegni yoga facciale e cerca di seguire un metodo, un protocollo. Solo così puoi ottenere dei risultati e non improvvisare o fare quella qualcosina che hai letto su un giornale o su un libro, ok? Allora, attendo i vostri commenti qui sotto questo video sugli argomenti che vi piacerebbe trattare e poi vedrò di fare un video a tema, ok? Vi mando un abbraccio e alla prossima! Ciao! Ah sì, approfitto per dirti che il 29 di novembre sarò a Milano a tenere il workshop di yoga facciale. Per tutte le informazioni metto il link nel testo così puoi andare a cliccare e a vedere tutte le informazioni riguardo al workshop. Ciao, alla prossima! Grazie! Grazie!